In attesa dello schieramento, è un buon momento per riscaldarsi. Postile in discesa nell'area, occhio in alto! Ok, può bastare. Adesso combatteremo per davvero. Postine in discesa nell'area. Maloppo! L'obiettivo è semplice! Mettere al sicuro più denaro del nemico! Ho marcato... ho marcato... ho marcato... ho marcato dell'equipaggiamento. Laggiù, forte! Ecco la nostra sala di lancio! Conti! Non inserisato così! No... Non inserisato così! Non inserisato! Non inserisato così! Non inserisato! Non inserisato nulla! Avanzate alla prossima area e mettete in sicurezza il perimetro. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. La banca ha aperto i battenti. Alla prossima. 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 Let's get close. Alla prossima. And on. la banca ha aperto i batteri ma porco di azz ma guardate che sfiga di merda va bene mi chiede almeno 91 quanti sono senza soldi fucking idiot il movimento elicottero in posizione per il deposito forza pronta un'altra 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 ma poi minchia serve qualcuno al volante ho marcato dell'equipaggiamento c'è qualcuno qui, guardate si, guardate watch out there is another one it's outside outside of the building it's outside of the of the building whoa there's the king near here i'm going to kill him right now the bank ha aperto i battenti serve qualcuno al volante quello è mio cazzo hanno chiamato l'elicottero in movimento la banca qui si può depositare arriva un mentor per il depotente metti al sicuro più denaro che puoi l'elicottero in posizione per il deposito forza pronta ma dove cazzo era ma pure alle spalle si dai va bene dai tanto la solita menata gioco con i coglioni eh squadra è diventata una nuova zona di lancio ma voglio dell'elicottero l'elicottero in uscita dall'area operativa mi sposto carico al sicuro alla base serve qualcuno al volante ma non è dio ma non è ma non è Sì ci serve uno che guidi mi metto io al volante non serve qualcuno al volante ostile in discesa nell'aria, ovvio in alto non serve qualcuno al volante nemico in discesa nell'area operativa nemico in discesa nell'area operativa nemico in discesa nell'area operativa minchia che l'ha rubata finale è ancora lui sempre è ancora lui